Sono multipotenziale, quando l'ho scoperto mi si è aperto un mondo, mi sono proprio illuminata e ho detto non è possibile che per tutti questi anni ho sofferto interiormente tantissimo, non sono mai riuscita a spiegare questa cosa anche a chi mi stesse vicino, ma adesso ho una risposta ben chiara e la voglio condividere con te. Io sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale Van Education in cui parliamo di crescita, di creatività, di attività per bambini, tutta una serie di cose che infatti adesso ti spiegherò proprio il motivo di questa scelta e di questo new project del nuovo canale YouTube Van Education. Quando mi chiedono ma di che cosa ti occupi? Che lavoro fai? Inizia, cioè parte proprio il criceto che gira, 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 gira e alla fine si schianta perché non sapendo bene come definire tutto il marasma di cose che faccio rispondo è un insegnante, insegnante compartita IVA, però dentro di me dico ma cacchiarola con tutto quello che fai, che sai fare eccetera solo quello ti esce, quel momento ti esce solo quello, anche perché poi se te lo chiedi la sciora Maria di 75 anni difficilmente le vai a rispondere, so signora Maria io sono fondatrice di Van Education, insegnante freelance e terapista comportamentale scusa, puoi ripetere? Allora sostanzialmente il di che cosa ti occupi è molto molto facile e da qui si potrebbe chiudere il video se tu sei appunto insegnante e fai solo quello, se sei che ne so capotreno, se sei infermiere, se sei medico poi specializzato nelle varie specializzazioni se sei commercialista, non lo so meccanico, ecco queste sono le classiche, classicissimi impieghi che insomma c'erano anche diversi anni fa poi per carità sono cambiati sicuramente il ruolo anche dell'insegnante ma anche del collaboratore scolastico che era l'ex Bidello è cambiato, però fondamentalmente una persona capisce vagamente ciò che fai, già non vi dico se inizia a dire educatore professionale anche lì si apre un mondo perché ah fai la babysit? No, è una professione, ah giochi con i bambini? Non esattamente, quindi vabbè è già difficile però di per sé io parlo a tutte quelle persone che vogliono intraprendere un po' il percorso che ho intrapreso io del Nani se non mi distruggi per favore, c'è Nani che sta distruggendo e ogni volta che faccio i video distrugge la casa comunque dicevamo che nel momento in cui ti chiedono di che cosa ti occupi, se vuoi intraprendere un percorso un po' diverso dal solito l'idea è quella di riuscire prima a mettere il focus su se stessi, a lavorare su se stessi per poi poter appunto anche definirsi perché è importante anche definirsi per se stessi e non solo per gli altri, diciamo che l'obiettivo è anche quello però in sostanza chi vuole intraprendere un percorso per andare contro al si è sempre fatto così questi sono i mestieri che più, insomma sono i più rinomati, sono quelli più conosciuti io cosa ho fatto nella mia vita? Nella mia vita ho studiato tantissime cose il famoso impara l'arte metti da parte però con consapevolezza a volte magari no perché mi sono capitati dei corsi di formazione o delle opportunità che io comunque ho colto perché io vedo sempre tutto come un'opportunità e non come un ostacolo cioè se avevo colleghe che vedevano la formazione come una rottura di BIP io la vedevo sempre come un'occasione di crescita per imparare qualcosa per insomma arricchirmi a livello di bagaglio culturale ma anche proprio della mia valigetta degli strumenti che mi permettesse poi un giorno di tirare fuori questa competenza e applicarla nel mondo in cui mi trovavo in quel momento professionale, personale eccetera quindi in sostanza cosa ho fatto? non starò qui a dire nel dettaglio tutti i mille e milla corsi che ho fatto magari un giorno dedicheremo un video specifico sui vari corsi di formazione eccetera però ho fatto e ho ricoperto diversi ruoli dal ruolo che non vorrebbe ricoprire nessuno in cui sei trattato come l'ultima ruota del carro in cui sei molto sfruttato in cui tra uno stage e l'altro stage mi raccomando no state tra uno stage e l'altro sei veramente trattato uno schifo a ruoli di grande responsabilità a ruoli in cui mi sono dovuta rimboccare le maniche a ruoli in cui magari ero nuova però avevo non lo so anche solo riguardo alla disabilità ho dovuto veramente studiare e imparare tantissimo perché comunque la gestione di crisi o comportamenti problema non è da tutti ed è una cosa molto difficile per cui bisogna comunque studiare e formarsi mettendo insieme tutte queste cose io sono arrivata a diciamo a conoscere ad avere tante conoscenze ad avere diverse abilità ma dicevo caspita però ho questa abilità nel campo non lo so sparo nel campo della finanza nel campo dello yoga nel campo del business nel campo dell'insegnamento nel campo del comportamento della psicologia però poi in definitiva come faccio a metterle insieme quindi questa cosa per anni in realtà mi ha un po' mi ha accompagnata a livello di non di angoscia per carità però non l'ho vissuta sempre molto bene perché avevo il timore insomma di avere il piede in molte scarpe e di non riuscire a tirarmi fuori avevo paura che poi tutto questo sapere tutte queste informazioni tutte queste conoscenze di campi diversi arrivassero poi a confondermi le idee e a non farmi davvero emergere in qualcosa quindi la classica paura di non essere veramente bravo in qualcosa e questo veramente mi ha mi ha confuso molto in un corso di formazione in particolare ricordo che insomma il principio del corso di formazione tra l'altro un corso di formazione insomma mi era costato anche parecchio al primo step diceva che bisognava chiarire le idee e che bisognava avere un obiettivo un focus da raggiungere una volta che si aveva l'idea chiara su cosa poter creare il proprio business allora tutto il resto era in discesa perché poi avremmo imparato all'interno insomma del corso come non so sponsorizzare il proprio prodotto piuttosto che come parlare alle persone come comunicare come lavorare sui social insomma tutta una serie di cose e io lì ero disperata perché al momento dicevo caspita ma io vorrei fare tante cose cioè vorrei parlare dei bambini della didattica dei laboratori perché fa parte del mio lavoro dicevo ma vorrei anche parlare della sfera personale della mia crescita personale di tutto ciò che ho fatto per imparare anche a fare business e anche e soprattutto per lasciare andare il vecchio mondo il vecchio stampo quello del sei sempre fatto così quello delle mansioni dei lavori già prestabiliti confezionati il pacchettino per cui cresci cioè ti formi ok cresci mano a mano fai la tua scalata di carriera arrivi al pensionamento e per tutta la vita hai fatto sempre solo quello però dentro di me bussava quella parte creativa da content creator oggi si chiama così cioè il creatore di contenuti ma poi fondamentalmente io lo faccio nella mia vita di tutti i giorni che potrebbe essere quella di preparare anche lezioni mega galattiche stratosferiche per i laboratori van education per l'homeschooling per le terapie tutta questa parte creativa bussava sempre alla porta io in un'unica mansione ci stavo stretta cioè nell'insegnamento e basta ci stavo stretta perché avevo esplodevo dentro di me avevo così tante informazioni così tante abilità che dovevo sfruttarle questo è il motivo per cui col canale youtube io ho deciso di ripartire dopo che per anni mi sono fatta delle pippe mentali per il fatto che il canale doveva essere monotematico che il canale comunque doveva spingere verso un determinato argomento quando ho davvero studiato approfondito la multipotenzialità che comunque ancora oggi non è esattamente studiata a livello scientifico cerebrale però attraverso diversi studi si è riusciti insomma a capire in definitiva che la multipotenzialità non è nient'altro sostanzialmente le persone multipotenziali non sono altro che persone che si danno la possibilità di sviluppare più passioni e interessi trovando proprio in questa varietà la loro realizzazione non solo professionale ma anche personale quindi non si parla solo di competenze verticali ma si parla anche di competenze orizzontali la T-shape sostanzialmente quindi sicuramente nelle persone multipotenziali c'è tanta voglia di imparare curiosità entusiasmo cioè il desiderio di volersi proprio costruire un ruolo lavorativo senza però rientrare diciamo in un ruolo già esistente è un po' quando proprio ti senti stretto in un'unica carriera quindi in sostanza che cosa comporta questa multipotenzialità comporta e questo l'ho scritto bene in un post su Instagram quindi potrete andare a leggerlo perché lì ho veramente spiegato che cosa intendo con l'essere più di una persona all'interno dello stesso ruolo cioè mettere insieme la propria personalità le proprie abilità e competenze all'interno di un ruolo anche lavorativo in sostanza io sì sono un'insegnante però nel mio essere insegnante ci ho sempre messo dentro quella parte di meditazione di yoga e di sfera spirituale che io ho appreso praticando sì sono una terapista però c'è anche quella parte di insegnamento di diverse modalità di teaching di insegnamento diverse modalità che ho appreso grazie anche ad esempio le terapie aba quindi io non sono solo terapista ma ci metto dentro tutta questa parte non sono poi solo un'insegnante di yoga ma sono anche un'educatrice perché ho sviluppato questa abilità ovviamente attraverso gli studi di scienze dell'educazione quindi all'università ma l'ho sviluppata poi anche nella pratica sono una content creator su youtube però ho anche studiato approfondito l'arte del network marketing del del business dei social dei social media manager ho fatto diversi corsi perché non volevo essere solo una content creator volevo metterci dentro tutto quanto sono una content creator legato alla didattica però lavoro anche tanto a livello manuale lavoro tanto a livello creativo quindi ho imparato a mescolare tutte le varie discipline affinché poi potessi costruirmi un personal brand e lì infatti sono arrivata poi alla diciamo alla conclusione finale per cui il lavoro maggiore è il lavoro che si fa su se stessi gli insegnanti non sono tutti uguali i terapisti non sono tutti uguali gli psicologi non sono tutti uguali ma la differenza la fa davvero la persona e il multipotenziale che c'è all'interno della persona quindi più la persona effettivamente porta all'interno del proprio lavoro tutta una serie di abilità di competenze e di skill che ha raggiunto che ha inglobato ok in sé più questa figura diventa poliedrica diventa una figura unica cioè una persona come me oggi sono arrivata a capirlo dopo anni e anni non potrà mai essere uguale ad un'altra che magari ha fatto lo stesso percorso di studi ed è anche da lì che ho iniziato a capire che la competizione può essere sana dal momento in cui effettivamente mi può rendere più produttiva mi può dare ispirazione io guardo un'altra persona come lavora e trago ispirazione da questa persona perché si può sempre migliorare però non vivo più la competizione con ansia perché so che quello che offro io non lo può offrire nessuno negli stessi termini perché nessuno ha fatto tutte le esperienze e tutta la formazione che ho fatto io può darsi anche che abbia fatto abbia fatto o decida di fare da oggi in poi Vanessa tu quelli corsi e percorsi hai fatto te li elenco tutti tu li fai ma il tuo modo di vivere l'esperienza sarà diverso dal mio perché io magari sono arrivata con l'esperienza in un determinato periodo della mia vita e tu in un altro periodo della tua vita quindi il confronto è sempre fondamentale l'ispirazione è sempre importante e lo è anche la condivisione quindi io sono felicissima di aver raggiunto diciamo questa consapevolezza perché mi ha permesso poi di lavorare su me stessa sul mio personal brand quindi su Vanessa su Van Education e portare dei contenuti che non saranno mai uguali a quelli degli altri quindi la mia paura che ho avuto per anni e che voglio condividere perché sicuramente avrai anche tu tante paure paura di lasciare il posto fisso paura di prendere la partita IVA paura di buttarti magari in un mondo che non è ancora stato neanche creato inventato cioè quando le persone portano qualcosa di nuovo all'interno del mercato certo non sarà facile e le persone non tutte conosceranno capiranno al volo quello che stai facendo però col tempo sono sicura che magari quel prodotto che porti tu è un prodotto completamente diverso innovativo che non c'è all'interno del mercato e magari potresti essere davvero tu l'unica persona dalla quale poi tutte le altre persone si riforniranno o faranno formazione o vorranno imparare non tutto è stato ancora inventato quindi io davvero ti invito a lasciare andare le tue paure e a riscoprire il multipotenziale che sono sicura possa esserci in te non tutte le persone nutrono tantissime passioni possono esserci delle persone che sono estremamente favolose in quello che fanno fanno un'unica cosa nella vita e la fanno davvero bene sono super specializzate e quindi tanto di cappello perché vuol dire che tu hai capito da subito la tua missione l'hai messa in pratica e ci sono anche ragazzi che a 23-24 anni hanno anche una carriera brillantissima lo vediamo con tanti youtuber che però sono persone comunque intelligenti che sanno il fatto loro che hanno aperto anche un'azienda cioè non sono youtuber e basta per intenderci e quindi io ammiro tantissimo anche i ragazzi più giovani di me nella mia consapevolezza non c'è neanche più quell'idea che la persona adulta a fine carriera sia quella che abbia da insegnarmi tutto ma è quella che ha da insegnarmi alcune magari peculiarità alcuni segreti ma c'è anche il ragazzino di 20 anni i miei studenti i miei bambini mi insegnano ogni giorno il mio mestiere quindi bisogna essere sempre aperti su più fronti e bisogna davvero ascoltarsi capire che quando un ambiente ti sta stretto è perché tu hai dell'altro da dare e hai dell'altro da scoprire quindi la multipotenzialità secondo me non va confusa assolutamente con l'incostanza o col fatto di cambiare continuamente attività formazioni lavoro carriere perché soltanto dopo aver scoperto e aver sperimentato più cose nel tuo mestiere nel tuo lavoro e nella tua vita personale che potrai davvero trovare la strada che ti renderà felice quindi io ti auguro di trovare quella strada e noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando nei commenti scrivimi un po' qual è la tua riflessione alla luce di quello che ho portato io come contenuto e mi piacerebbe anche sapere se vuoi approfondire altri argomenti a tema quindi magari business cambio lavoro magari delle domande specifiche che mi vuoi fare rispetto a come ho fatto io come ho risolto io un determinato problema ostacolo che ho affrontato nella mia vita e in tutti questi cambi quindi niente io ti invito a iscriverti al canale youtube Van Education se ancora non l'hai fatto lascia un like e un commento e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao